Bella raga, eccoci arrivati al terzo episodio che tanti aspettavano Inizio ringraziando tutti coloro che mi stanno seguendo in questa avventura Oggi vi faccio vedere le prime partite ufficiali partendo dalla Capital One Cup in casa del Chertel Town Town Ah, vi volevo mostrare in breve le partite Però io sinceramente mi sarebbe piaciuto, come molti mi hanno chiesto, mostrare tutta una partita intera Ma secondo me è un po' inutile perché la carriera sarebbe infinita, non la finiremmo più Comunque si parte, prima partita ufficiale per i lupi di Roberto Baggio Io nelle partite taglierò tutti i pezzi inutili secondo me In questa prima partita l'ho fatta appena più lunga per provare, per sentire le vostre opinioni Così a decidere insieme il proseguito e nei prossimi episodi decidere come registrarle Allora, siamo al quinto minuto Benzia della fascia, il tiro Parato dal portiere Musa, doppio passo, numero, rigore, atterrato Al quinto minuto, rigore per i lupi Si lamenta l'avversario ma il rigore è più che netto Musa si concentra, il capitano sul dischetto Carica il destro, il tiro, rete, rete ragazzi, primo gol del torneo Primo gol della Capital One Cup E lo segna il capitano, Musa, sul rigore Si riparte, partono gli avversari Fraseggiano Allargono sulla fascia Partono subito in contropiede, attenzione Però c'è un grandissimo terzino Tiro, paratissima in su del portiere Respingiamo con Pseco che parte in velocità, incredibile Palla per Dombia che non arriva Ripartono gli avversari Lancio lungo, bloccato da Ward Ward per Dombia, Dombia per Gesè Rodriguez Numero Gesè Rodriguez per Musa Musa lancio per Oara Oara, Oara, è fiscato, fuori gioco Siamo al venticinquesimo Azione per gli avversari Il tiro, respinto da Zoma Zoma lancia per Musa Musa, numero di Musa Lancia in profondità Attenzione, lancio per Benzia Benzia in area Benzia, di controbalzo Il tiro! La palla sfiora l'incrocio dei pali Trentasettesimo Gli avversari fermati da un monumentale Zoma Ancora Zoma Ma ripartono gli avversari, incredibile Fermati da Pseco sulla fascia Che a parte farla Ripiega molto come terzino La parla per Oara Oara numero Oara per Benzia Benzia va a fine in fondo Benzia Il cross Musa! 2-0 Doppietta per il capitano E si va ad esultare vissuto la bandierina 2-0 al 43 Se riparte Partono di nuovo gli avversari Sotto i padroni di casa Di due reti Ma ci provano subito Con un solito possesso palla Sbaglio nel possesso palla La palla recupera Musa Musa per Benzia 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 Fermato Benzia Finisce il primo tempo Adesso subito nel secondo Per noi nessun cambio Gli avversari Fanno il primo cambio Della partita Giocano gli avversari L'ala per Pen Pen va a fine in fondo Mette in mezzo Uscita del portiere Che sta facendo una grande partita Arriviamo al 55esimo Gisela Rodriguez Sbaglio uno stop facilissimo E gli avversari entrano in aria Il tiro di testa Sfiorano il gol I padroni di casa Il gol che avrebbe potuto Riaprire la partita Ci provano ancora i padroni di casa Ci provano ancora loro Sulla fascia Secondo me era fuori gioco Crossi in mezzo Il tiro ancora Zouma Monumentale Ci provano ancora Parata del portiere Semplice Ragio terra Ringuere il portiere Per Seco Che stoppa la palla di testa La lunga Benzia Benzia La lancia lunga Per O'Hara O'Hara va a fine in fondo O'Hara Prova Mettale in mezzo Tiro di testa Non arriva Gisela Rodriguez Prova il tiro Deviato Si tratta di calcio d'angolo Allora Prima tre sostituzioni Che nei prossimi video Non farò vedere Comunque oggi Entra Mbakoku Dongou E Jai Sin Per Don Bia Benzia E E non mi ricordo Chi è l'altro Comunque Siamo al Sessantasesimo Ho provato a fare Tutti e tre cambi Tanto ormai la partita Mi sembra Abbastanza In cassaforte Comunque gli avversari Ci provano Ci provano Sulla fascia Crossi in mezzo Il portiere esce Bravissimo Arriviamo al Settantottesimo Gli avversari Con Pak Pakman No no Pak Ci provano Il tiro Parata del portiere Razio terra Che rischia un po' Ma si riparte Attenzione Siamo al Al novantesimo Col minuti recupero Gisela Rodriguez Mette in mezzo Mbakoku Mbakoku 3 a 0 Primo gol All'esordio Con la maglia Del Wolverhampton Pakoku Sigla il 3 a 0 Finale E il Wolverhampton Continua La sua avventura In coppa Rivediamolo Sbaglia Poi di sinistro Tiro a rete Finisce così La prima partita Ufficiale Dei ragazzi Roberto Baggio 3 a 0 Per i lupi E si va avanti Ottima partita Adesso Partiamo Con Voliamo in campionato In casa del Lipsy Witch Town E questa partita Verrà E' stata registrata Ma Ho tagliato molti più pezzi Per Per evitare che il video Sia troppo lungo Comunque Si parte subito Partono i lupi Con quella casacca Arancione Giallo arancione Che è veramente bella Pseco per Benzia Benzia si fa fermare Musa 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 Scalza sulla fascia Musa Supra l'avversario Musa Fino in fondo Musa 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 Prova lo scavetto Ma viene fermato Siamo già a quindicesimo Vedete che la partita E' molto più veloce Questa volta Lancio di Zouma Per Benzia Che è Fortunatamente la passa Musa Musa Prova lo scavetto Ancora il portiere In uscita Ottima prova Del portiere avversario Don Bià Don Bià per Musa Musa per Benzia Benzia Ancora per Musa Musa di testa E il portiere Non si fa sorprendere Musa poteva fare Molto di più Passiamo al 39esimo E guardo Sbaglia Palla per l'avversario Il tiro Ma il portiere Non si fa Trovare impreparato Voliamo subito Al secondo tempo Partono gli avversari Fermati da Don Bià Devastante A centrocampo Oggi Lancio per Benzia Troppo lungo Infatti Il difensore recupera E l'appaggia Il suo portiere 49esimo Lancio per gli avversari Supera il portiere Che sbaglia l'uscita Ma per fortuna Pallava fuori Gesè Rodriguez Sulla fascia Prova il numero Va sul fondo Rientra Gesè Rodriguez Mette in mezzo Musa non ci arriva La testata La capozzata Tra i Dumbià 1-0 Per i lupi Al 66esimo E si va a esultare Come al solito Con la sua scivolata classica Vincendo la bandierina Finisce così la partita Negli ultimi minuti Non c'era niente Di preoccupante Da farvi vedere Quindi Primi tre punti in campionato E La prima vittoria Ufficiale in campionato Per i ragazzi Di Roberto Baggio Che la prima Non deludono Adesso Vogliamo subito Finalmente Dico Finalmente in casa Al Munex Stadium Contro il Blackpool Che è una formazione Abbastanza forte Che Ha fatto anche Una bella campagna Quisto Ho visto Comunque Gli avversari Si si vede Che giocano un buon calcio Partono subito Subito forte Cross in mezzo Il tiro Rischia di andare in vantaggio Nei primi minuti Al 41esimo Bacogu titolare Questa volta Lancio per Musa Che è sulla fascia Prova a scattare Rientra Musa Cross in mezzo Ohara Prova il tiro Già è Sienna Inserimento del Ne acquisto Dal Paris Saint Germain Pensate L'ho pagato soltanto 500.000 euro È un fenomeno Fidatevi Al 45esimo Quindi passiamo in vantaggio Ma il Blackpool Ci sta Pochissimo Pareggio immediato Di Osborne La partita Finisce qui E comunque 1 a 1 Ho saltaiato tutto Il secondo tempo Non c'era niente Da farvi vedere Se vi va bene a voi Io continuo a fare video Così veloci Così da Da scrivere più Da mettere più partite In un video Ed evitare che Il video si allunghi troppo Comunque Arriva una brutta notizia Infortunato Oara Per due settimane E voliamo subito Al Moonlight Stadium Dove giochiamo contro L'Arch City Ah no Scusate No 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 Non giochiamo al Moonlight Stadium Siamo in trasferta Contro L'Arch City Partiamo subito forte Con Col tiro di 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 Davis Ne è entrato Gelsien Troppo stanco Per farlo giocare Comunque Partiamo subito forte Ci vede subito Benzià Per Gessera Rodriguez Il tiro parato Gessera Rodriguez Ci riprova Ma arriva la palla Musa 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 La Musa ispiratrice Ancora in gol E si va col Moonwalk 1 a 0 Per gli ospiti Riveliamo il gran gol Di Musa Si va al 28esimo Partono gli avversari Parte McLean La palla per Finati McLean Ancora McLean Davanti al portiere La parata E poi la respinta Facile Prendiamo Troppi gol Bruttissimi Dagli avversari Bello che poi Il giocatore Si lancia E passa dentro A bandierina Bug assurdo Il tiro come Rivediamo Gol Niente Andiamo avanti Siamo al 32esimo Il Wolverham Non si prova Gessera Rodriguez Sulla fascia Affonda Mette per Musa Musa Mette in mezzo Benzià Non ci arriva Sfortunato Musa Musa prova il numero Fortunato Il tiro di sinistro Il tiro di sinistro Piede debole Va male Centrale Partono gli avversari Che provano a fare A segnare il gol Della vittoria Il portiere Fortunato Diciamo Finisce anche questa 1-1 Primo pareggio Dopo la vittoria Precedente Contro l'Ipsi With Town Adesso Finalmente lo possiamo dire Si torna al Munich Stadium Dove arriva Il Barsley Con la maglia Dell'Inter Perché è una maglia A strisce nero Azzurra Non è nell'Inter Vabbè Partono subito Gli avversari Che sbagliano Un passaggio semplice Quindi al terzo minuto Psego sulla fascia Benzià Benzià Si allarga Benzià Supera l'avversario Il tiro di sinistro Gran gol Al quinto minuto Di Giacin Benzià Ora fa il pavone Brutta esultanza Festeggiano I padroni di casa Con questo gran gol Di Benzià Al primo gol Stagionale per lui Al 53 Siamo già nel secondo tempo Gli avversari Ci provano Ci provano Entrano in aria Il tiro Parata del portiere Semplice parata Si parte con Psego Che va sulla fascia E No Sostituzione Scusate Entra un Bakogu Un Dongou Gesele Rodriguez Per un Bakogu Bakogu per Dongou Dongou Appena entrato Dongou Supera l'avversario Dongou Il ne acquisto Dalla cantera Del Barcellona Non delude Subito in gol Al 71 Assist In Bakogu Appena entrato Dongou Si gira E l'appoggia Sotto al portiere Di piatto 2 a 0 Per i ragazzi Del Wolverine Ragazzi Ci vediamo Al prossimo episodio Adesso vi faccio vedere Per ultima cosa La classifica Sì La classifica Scusate Comunque Vi prego Di commentare Scrivendo Se volete Se volete Che io Registri E vi faccia Vedere Le partite Lunghe Oppure Gli spezzoni Come nelle Nelle partite Che vi ho fatto Vedere oggi Ecco la classifica Del campionato Siamo Quinti A 8 punti La prima Il Birmingham City Che ha 10 punti Comunque Secondo me Ci potremmo Togliere Molte soddisfazioni Al prossimo episodio Bella raga Mi raccomando Lasciato un mi piace Ciao Ciao